La lista civica Castelfranco Pian di Scocchia ma all'appello i propri sostenitori venerdì 29 luglio in piazza Vittorio Emanuele alle 21. In tale occasione saranno resi pubblici i risultati della petizione per il passo indietro sul Comune Unico alla presenza anche di esponenti politici regionali. Visto che noi abbiamo questa voglia di rendere pubblico quante firme abbiamo raccolto per la petizione per ritornare a un referendum sul Comune Unico, quindi a un referendum di verifica, prendiamo l'occasione, visto ormai di referendum si parla, per informare la popolazione e dare l'opportunità a un movimento per il no al referendum istituzionale quindi in quella stessa sera vorremmo poter dare spazio a tutte e due le cose. Il referendum sul Comune Unico, quante adesioni ci sono state finora? Beh, quante le diremo, l'ufficialità la diremo venerdì sera nell'occasione della manifestazione pubblica. Tra l'altro ci sarà il Presidente del Comitato, Benedetti, che darà informazioni di questo. A me interessava rivolgere un appello ai cittadini di Castelfranco, Piandisco e Faella perché partecipino e vengano a vedere, perché tanti chiedono ma che fine hanno fatto le nostre firme? È vero, noi ci abbiamo messo un po' di tempo, questa è una prima fase tra l'altro perché non è facile avere a disposizione le persone per andare a fare i banchini, eccetera e la gente ti cerca, ah io non ho firmato, allora noi faremo questo elemento di verifica prima delle ferie, a settembre riprenderemo anche le firme. La cosa interessante è che noi abbiamo chiamato tutti i consiglieri regionali di opposizione e mi auguro che qualcuno di loro venga, perché gli vogliamo dare a loro il mandato di portare in regione questo quesito. Ovviamente intanto va avanti anche l'altra campagna referendaria per quello costituzionale di ottobre e la lista, schieratasi per il no, prosegue in tal senso il proprio lavoro.